Caffè Milani, da 85 anni, immancabilmente tuo. Ciao, sono Evelina, lavoro a impresa da più di 20 anni. Impresa è un'opera sociale che aiuta ragazzi in dispersione scolastica e disagio sociale. Ha una scuola professionale, in particolare però qua a Giussano abbiamo attivato dei laboratori per i ragazzi che non riescono ad andare a scuola e neanche al lavoro. In particolare in questi anni nel laboratorio di Sartoria abbiamo collaborato con delle aziende del territorio e quest'anno per l'85esimo di Caffè Milani abbiamo iniziato questa nuova collaborazione. Faremo delle borse, delle poscette, degli zainetti con del materiale utilizzato dai sacchi del caffè. Siamo felici di poter contribuire a dare una seconda vita a questi materiali di scarto. Continuate a seguirci sul sito di Caffè Milani per scoprire tutti i prodotti che abbiamo pensato per voi.